Ok, mi stanno dicendo che ricordano in progress, un attimo solo, devo condividere, ecco qua, ditemi se vedete la... Patrizia, tu la vedi? Sì, la vedo. Aspetta che facciamo la presentazione. Ok. Ehi, allora. Siamo alla fine. Fantastico, siamo partiti proprio dalla fine, allora un attimo solo, non riesco a capire come mai abbiamo fatto la produzione dalla fine invece che dall'inizio, però vabbè, scusate, il bello della diretta, arriviamo subito. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, sono ancora io, come diceva Lerosa, carta e penna, perché anche questa sera ci sono tante cose da raccontare, la pelle è uno dei nostri organi più estesi e Patrizia anche questa sera ci darà delle informazioni molto importanti, non soltanto per la pelle ma anche per i capelli e per i peli. Come diceva Lerosa, arriva l'estate, quindi iniziamo a scoprirci e scoprendoci scopriamo che c'è qualcosa che magari non va, oppure perché la nostra pelle, scoprendosi quindi, è più esposta agli agenti atmosferici, il sole, il vento, l'aria, eccetera, quindi ha bisogno di una cura maggiore, per cui questa sera vediamo un attimino che cos'è la nostra pelle, perché è un organo così importante e come possiamo aiutarla con i prodotti della DXN. Quindi faccio partire subito la prima nostra diapositiva e Patrizia, a te la pelle, ma cos'è la nostra pelle? Ma cos'è questa pelle? Spesso noi pensiamo alla pelle come qualcosa che ci riveste, qualcosa che ci limita, qualcosa che ci copre. In realtà non è proprio così. La pelle, che viene chiamata anche cute, è un tessuto, è un tessuto che fa parte di un apparato, che è l'apparato tecumentario ed è composta, come vediamo già dalla diapositiva, che ci può aiutare un attimino, da tre strati, dall'epidermide, dal derma e dall'ipoderma o tessuto sottocutaneo. Ecco, questi tre strati sono presenti in tutto il nostro corpo ovunque troviamo la pelle, quindi anche se di dimensioni come vedremo tra un po' magari diverse lo spessore della pelle può variare da organo a organo, da zona a zona del nostro corpo. La cosa importante da ricordarci è che la nostra pelle è veramente molto molto importante perché ha proprietà, diciamo così, straordinarie e fondamentali, che è solo quest'organo del nostro corpo che possiede, che è quella di autoriparazione. Pensiamo semplicemente a come si curano le nostre ferite, le nostre abrasioni, attraverso, non so, la crosta che poi viene via e sotto la pelle si riforma esattamente come era prima. Ma pensiamo anche all'estensibilità, cioè alla capacità di adattarsi alla forma del corpo. Pensiamo quanto ingraziamo, quanto dimagriamo e questo ci fa capire quanto è importante questa caratteristica della pelle. Per le donne che hanno avuto la possibilità e la fortuna di essere anche mamme, quando abbiamo dei pancioni enormi, ecco che la pelle si tira ma non si rompe. Quindi è molto 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 adattabile. Benissimo, partiamo allora col primo strato. Incominciamo col primo strato. Il primo strato è il più esterno, incominciamo dall'esterno verso l'interno. Che è quello che conosciamo alla fine. Che è quello che vediamo in sostanza, che è l'epidermide. Ecco, come vedete l'epidermide è composto da una serie di strati a sua volta. Quindi quello che noi vediamo e quello che noi tocchiamo più esternamente è proprio uno strato che viene definito corneo. Tutte le cellule dell'epidermide si chiamano keratinociti, ok? Però partiamo da uno strato basale ad arrivare allo strato più esterno che è lo strato corneo. Ecco, lo strato corneo sono praticamente cellule morte. Quindi quando noi, ecco qui anche l'importanza che vediamo, che ci viene suggerito spesso dalle nostre magnifiche estetiste o anche la necessità che abbiamo, proprio di fare uno scrabo ogni tanto, no? Perché? Perché si rimuove più facilmente uno strato di pelle che è morto in realtà. Lo strato basale, vedete che c'è più in basso possibile, lo strato basale, ecco, quelle sono le nuove cellule, i nuovi keratinociti che si formano. Man mano che crescono, diciamo così, si spostano sempre più in superficie per poi quando hanno finito la loro vita diventare lo strato corneo, esattamente come questo. L'epidermide contiene due, tre tipi di cellule molto importanti. Le prime sono le cellule di Merkel, le vediamo qua, questa cellulina azzurra in basso. La cellula di Merkel è una cellula recettoriale. Che cosa significa? Ci permette di sentire gli stimoli tattili. Quando ci appoggiamo verso qualcosa che sentiamo il calore, piuttosto che la pressione, piuttosto che un fastidio, ecco, queste sono le cellule di Merkel. Poi abbiamo le cellule di Langerhans, che sono né più né meno, che delle cellule che fanno parte del nostro sistema immunitario. Sono delle cellule di difesa che fagocitano tutto ciò che non c'è con le epidermide. E poi abbiamo l'ultima cellula, ma che è quella che amiamo di più d'estate, che sono i melanociti, che sono deputati alla sintesi della melanina. Vedete questa cosa marrone che si diffonde praticamente tra i cheratinociti? È proprio la melanina che sale, sale, sale e colora la nostra pelle. Quindi sono tre tipi di cellule che sono contenute all'interno dell'epidermide. Ma come vedete l'epidermide non ha nient'altro. Quindi non ha vasi sanguigni, non ha nervi, non ha vasi linfatici. Perché tutte queste cose le troviamo nella, diciamo così, nello strato sotto, che è il derma. Il derma, eccolo qua, anche ora qui noi vediamo una diapositiva che riporta tutti e tre gli strati, ma il derma, che è proprio lo strato centrale, è molto molto importante. Perché come vedete già dall'immagine, ve lo dice in realtà, vedete che ci sono queste vie azzurre, queste vie rosse, che sono nient'altro che i capillari venosi e arteriosi. Le vie bianche sono i capillari linfatici e all'interno del derma troveremo anche i nervi, i nervi periferici chiaramente. Quindi il derma è molto molto importante perché fornisce il nutrimento all'epidermide, che non ha tutte queste cose. Noi sappiamo che il nutrimento viene trasportato dal sangue, e quindi è il sangue che ci dà il nutrimento. E come viene passato il nutrimento dal derma all'ipodermide? Attraverso la membrana basale. La vedete qua, è questa striscietta di viola un pochino più scura, che divide praticamente il derma dall'epidermide, dà una struttura un po' più solida all'epidermide, ma soprattutto gli permette a tutti i nutrimenti di passare anche all'epidermide, quindi di poter costruire i chiaratinociti, che poi man mano diventeranno lo nostro stato cutaneo più esterno. È un tessuto connettivo, quindi è un tessuto di sostegno, ma all'interno del derma noi troviamo anche i peli, ok, quindi avremo il bulbo pilifero con una ghiandola sebacea e anche le ghiandole sudoripare. Come vediamo è molto molto ricco di cose questo derma, quindi è molto molto importante come strato, soprattutto per la salute della nostra pelle. Potrebbe, scusa Patrizia, potrebbe essere, qua abbiamo il pelo, ma potrebbe anche essere il capello? Sì, sì, è uguale. Abbiamo comunque... Sì, 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 è uguale. Il cuoio capelluto è fatto nello stesso modo, diciamo. Pelo, capello, sì, peli e capelli sono peli, ok? Poi lo vedremo più avanti, si sviluppano diversamente, ma hanno la stessa natura. Tra le altre cose, una cosa molto importante, soprattutto per noi, che il derma è molto ricco di fibroblasti. I fibroblasti perché sono molto importanti? Perché sintetizzano il collagene e sintetizzano l'elastina, che sono quelle che danno alla pelle poi quell'aspetto molto elastico, senza rughe, e soprattutto ci sono, sintetizzano anche la glicosamminoglicani, che sono queste riserve di acqua che danno il turgore alla pelle, ok? E quindi, perché sono importanti? Perché se abbiamo tante di questi fibroblasti, la nostra pelle risulterà più giovane, quindi è molto importante per questo. Ok. Quindi non so, per esempio, quando ci tagliamo, facciamo un esempio, se è un taglietto proprio superficiale, non mi esce il sangue perché io non sono arrivata, diciamo, al derma, giusto? Esatto, esatto. Nell'epidermide i vasi sanguigni non ci sono, quindi se è ferita è proprio superficiale, se invece va un po' in più in profondità... Se va nel derma ci sono i vasi, i capillari, e sotto avremo delle piccole venule, che sono, o arteriole, che sono, diciamo così, la parte più piccola dell'apparato venoso e arterioso prima dei capillari. Prima dei capillari, benissimo. Adesso parliamo dell'altro strato. L'ultimo strato che abbiamo nella pelle è l'ultimo, lo vedete proprio sotto, il tessuto ipoderma o tessuto adiposo. In realtà non è un... non potremmo dire che fa parte del derma, no? Perché è un connettivo puro. Non fa parte della pelle, scusate, non del derma, perché è un connettivo puro. Ma è molto, molto importante perché è un tessuto che contiene queste cellule che sono in grado di riempirsi di grasso. Perché è importante? Perché il grasso ci isola, ok? Quindi ci può proteggere, per esempio, anche dal freddo, ok? Quindi è molto, molto importante. Sono fibre connettivali e all'interno ci sono queste fibre connettivali che creano una struttura, una struttura abbastanza importante, dentro la quale si formano questi adipociti. All'interno di questo strato si trovano anche tanti fibroblasti e tanti macrofagi. Quindi anche qui abbiamo il nostro sistema immunitario che sempre allerta e elimina tutto ciò che può passare dalla pelle. Ok? Quindi questi sono i tre strati più importanti. Bene, sembra una stupidata la pelle, però già vedendo ogni strato e come è formato, insomma, capiamo che, insomma, sicuramente è complesso anche e ogni cosa è al suo posto perché c'è un determinato motivo per cui... C'è un motivo, esatto. Ok, a questo punto vediamo quali sono le caratteristiche della nostra pelle e i tipi di pelle. Ecco, le caratteristiche della pelle variano da persona a persona. Allora, ci sono vari tipi di pelle. Incominciamo a dire che c'è una pelle dell'uomo e una pelle della donna. Come vedete, la pelle dell'uomo, qui sono due cellule di pelle, è molto più spessa di quello dell'uomo. Scusate, la pelle dell'uomo è molto più spessa rispetto a quella della donna e contiene anche molti più legami di collagene nello strato dell'ipoderma. Questo che cosa fa? Fa sì che la pelle dell'uomo sia maggiormente resistente rispetto a quella della donna ma sia anche più ruvida. Una cosa interessante da sapere è che, per esempio, dicevamo prima, lo spessore varia, no? Tu mi dicevi, una ferita superficiale. Ecco, noi ci cerchiamo le dita o non so, le labbra, subito esce del sangue. Se noi invece facciamo un tagliettino molto piccolo, per esempio sulla pelle dei talloni, è difficile che esca il sangue. Perché? Perché a seconda delle zone del corpo, la pelle può variare da uno spessore di neanche mezzo millimetro fino ad arrivare a quattro millimetri. Quindi anche all'interno dello spessore della pelle, lo strato dell'epidermine, del derma e dell'ipoderma saranno diversi. Quindi ecco perché, non so, a volte prendiamo dentro delle schegge, magari camminando a piedi nudi anche in spiaggia e non ci succede niente, sfioriamo le dita con un foglio di carta e subito esce tantissimo sangue. Questo è un po' il mistero. Pensate che la pelle si stima che su una persona adulta abbia un'ampiezza che va dal metro e mezzo ai due metri quadrati circa. E se si considera uno spessore medio di un 2-3 millimetri arriviamo ad avere un peso in chili di circa 10 chili. E su una persona normo peso è stato considerato come quasi il 15% del peso corporeo. È sostanzialmente l'organo dopo la muscolatura scheletrica e sto parlando dei muscoli che ci tengono in piedi, pensate quanti sono. Dopo la muscolatura scheletrica è l'organo che pesa di più. E quindi è molto particolare questa cosa, no? Ecco perché è molto molto importante. Anche proprio a livello fisico, ok? Fisiologico. Certo. E come dicevamo prima, la pelle si differenzia anche da come si presenta. Anche e soprattutto a livello estetico. Qui sono molto brava gli estetisti di me. Però lo vediamo, non so, c'è chi ha un colorito più pallido, c'è anche un colorito più roseo, c'è chi ha un colorito più scuro. Ecco, anche questo a livello estetico ci può variare. Tendenzialmente la pelle viene definita in vari tipi di pelle come, vabbè, la pelle normale che è quella che viene definita col colorito chiaro, roseo, che non ha imperfezioni. Ecco perché viene definita pelle normale. Quella che è molto levigata al tatto, molto perfetta, molto idratata e ha una buona microcircolazione. Quindi diciamo che è definita come una pelle sana, la pelle normale. Poi abbiamo una pelle grassa. Ok. Quando la pelle è grassa? Quando è impura, quando magari abbiamo dei problemi di acne. Lo vediamo subito perché è più lucida, sembra quasi oleosa, no? Quasi grassa, appunto. e contiene magari anche dei punti neri, i cosiddetti comedoni. E al tratto, se noi la tocchiamo, proprio la sfioriamo, vediamo che non è così regolare come una pelle normale. Può essere un po' irregolare. Poi abbiamo una pelle secca. La pelle secca, al contrario della pelle grassa, si manifesta molto ruvida, irregolare, può avere delle screpolature. La caratteristica di questa pelle è che è fragile e sottile. Il clorito è spento spesso e è soggetta purtroppo ad andare velocemente incontro all'invecchiamento della pelle. Perché? Perché è poco idratata. Dicevamo prima che più è idratata, più contiene acqua, collagene, abbiamo una pelle giovane, quindi una pelle secca tendenzialmente tende a invecchiare un pochino prima. C'è la cosiddetta pelle mista, che è un po' grassa e un po' secca a seconda delle zone del viso e poi la pelle sensibile che è quella pelle un po', io la chiamo anche un po' la pelle da porcellana, no? Che si rovina, si sta al sole, si screpola, se prende il vento diventa secca. Ecco, è una pelle che è molto molto sensibile a quello che può essere anche gli agenti atmosferici, a tutto ciò che ci sta intorno. È molto fragile, si squama facilmente e al tatto però questa risulta calda e anche questa come la pelle secca può andare incontro a un invecchiamento precoce. Quindi, come vedete, anche esteticamente la pelle si presenta in modo diverso. Chiaramente qua abbiamo parlato della pelle del viso, ok? Però anche se noi guardiamo le mani, non so, o altre parti del corpo noteremo che le persone hanno della pelle più secca piuttosto che una pelle non dico grassa però più idratata. Pensate per esempio quando noi ci esponiamo al sole abbiamo proprio la necessità nel periodo successivo all'esposizione solare di mettere delle creme perché la pelle tende a squamarsi facilmente a diventare molto più secca e quindi come vedete è un po' il viso è quello da visita però anche la pelle del corpo la segue ok? Però comunque di solito se una persona ha la pelle secca non ha soltanto la pelle del viso secca il viso è quello che ti fa la presentazione come dicevi tu il biglietto la visita però rispecchia quello che di solito dovrebbe essere tutto il resto della pelle di una persona eh sì a meno che una persona ha vissuto magari esposta per magari problemi non so di lavoro di attività eccetera magari esposta al sole del viso il viso al sole per diverso tempo sto pensando magari alle persone che fanno un'attività tipo all'aria aperta o ma magari non dico solo il contadino ma anche il maestro di sci piuttosto che e magari non si protegge in maniera adeguata poi col passare degli anni il passare degli anni sicuramente sarà una pelle che invecchia di più però come noi sappiamo benissimo ehm non tutti i soggetti siamo uguali no? No noi andiamo ci sono non so possiamo guardare sui nostri anziani ci sono delle persone che a 90 anni hanno una pelle bellissima ci sono persone che a 60 anni sono piene di rughe hanno delle ragnatele di rughe quindi è un po' una caratteristica personale possiamo aiutarla ma la caratteristica personale è un po' come nascere con gli occhi azzurri piuttosto che con gli occhi marroni ecco certo è una caratteristica ecco invece da un punto di vista più estetico queste sono un pochino le definizioni che vengono date e le particolarità del viso che abbiamo da prestare un pochino più attenzione la cosiddetta T è la zona dove ci sono più la presenza della parte oleosa della parte grassa quindi dove troveremo magari anche una pelle un pochino più mista le guance possono essere fragili oppure scherpolate oppure la zona vedete l'ultima immagine in basso a destra che sembra quasi piena d'olio questa è una pelle grassa quindi come vedete si presentano proprio in modo visivamente diverso e quindi le possiamo anche riconoscere certo però vi ho detto che l'organo ha delle precise funzioni è un organo molto importante perché abbiamo visto che è un organo molto complesso ora io non ho fatto l'elenco di tutti gli organelli che ci sono all'interno della pelle perché non volevo fare una lezione di anatomia però le funzioni della pelle sono molto importanti la prima funzione che mantenendo sempre ben presenti le caratteristiche che abbiamo visto prima quindi della capacità di autoguarirsi e dalla capacità dell'estensibilità ok però la prima cosa che fa la nostra pelle è che ci protegge ci protegge dagli agenti chimici fisici dalle radiazioni solari pensiamo ai raggi UVA pensiamo alle radiazioni impossibili però ci difende ci difende tantissimo ci difende dal freddo ci difende dal caldo quindi è molto importante la nostra pelle dicevamo prima che ci limita ci definisce quindi ci protegge da tutto quello che è intorno a noi perché noi siamo noi e quello che è fuori da noi è tutt'altra cosa quindi la nostra pelle è un po' come la porta di casa che chiudiamo e non facciamo entrare nessuno ecco la nostra pelle è qualcosa che non permette ad altri di entrare dentro di noi quindi ci protegge è sensitiva perché abbiamo visto no che nel derma è vero che nell'epidermide no ma nel derma c'è tutta una rete nervosa oltre che quella capillare linfatica e sanguigna quindi percepisce anche tutto ciò che arriva dall'esterno abbiamo le cellule di Merkel che percepiscono tutte le sensibilità le sensazioni caldo freddo come si chiama la pressione quindi è una pelle che ci comunica in continuazione quello che sta succedendo intorno a noi e ci avvisa anche se qualcosa ci dà fastidio faccio un esempio stupido ci appoggiamo e abbiamo un cuscino messo male subito cominciamo a fare così no è la pelle è la prima è la pelle che dice c'è qualcosa che non va e che non sono comoda quindi ecco perché è sensitiva ha una funzione molto importante di termoregolazione perché perché abbiamo visto che nel derma ci sono anche le ghiandole sudoripare sono quelle che fanno il nostro sudore perché è importante il sudore perché ci raffredda è il primo diciamo così è la prima reazione del corpo per raffreddare il corpo no per raffreddarlo immediatamente ma se io aumento o diminuisco il flusso sanguigno posso aumentare il calore o diminuire il calore ma un'altra cosa che mi permette di avere più calore a livello della pelle è il muscolo erettore del pelo avete presente la pelle d'oca quando abbiamo freddo ecco la pelle d'oca è proprio un segnale che noi abbiamo freddo e il nostro corpo come col caldo si attiva la sudorazione con il freddo si attiva il muscolo erettore perché il muscolo muovendo si produce calore e quindi richiede anche più sangue quindi si riscalda di più il corpo quindi guardate come dei piccoli organelli fanno delle cose impensabili elimina elimina tantissimo uno degli organi di depurazione l'abbiamo detto quando parlavamo di depurazione e anche l'apparato della pelle perché attraverso la sudorazione ma attraverso anche le emissioni per esempio di sebo eccessivo eliminano tutto quello che può essere nocivo per noi quindi pensiamo a dei farmaci pensiamo alle tossine ma pensiamo anche per esempio a non so a un'emozione molto forte quando noi abbiamo un'emozione molto forte bella brutta che sia spesso sudiamo perché l'emozione produce anche un eccesso di adrenalina a volte quindi va eliminata facilmente quindi la pelle può eliminare anche questo vi faccio vi invito a fare questo giochino se volete non è bellissimo da fare quando sei in comunità però se siamo soli lo possiamo fare per capire come la pelle assorbe o non assorbe determinate cose è una cosa che assorbe molto facilmente la pelle quindi che la nostra barriera protettiva lascia passare per esempio sono gli oli essenziali gli oli essenziali sono molto ricchi nelle piante lo sappiamo tutte le piante che profumano e poi vengono buttate fuori attraverso il sudore questi oli essenziali ecco se noi abbiamo voglia di capire come funzionano gli oli essenziali nel corpo esattamente come se li ingerissimo ma noi li assumiamo dalla pelle possiamo fare un pediluvio per esempio con una testa d'aglio schiacciata la mettiamo in un catino d'acqua ci mettiamo a mollo i piedi a seconda di quello che è la nostra capacità poi è sempre soggettivo di ricevere gli oli essenziali e di eliminarli e di buttarli vedremo che sudiamo aglio il nostro sudore saprà di aglio questo vi fa capire come la pelle assorbe ma poi butta via tutto ciò che non ci serve lo sappiamo ci sono alcune popolazioni che usano tante spezie e la sudorazione è speziale a volte noi dà fastidio questo proprio perché è l'apparato della pelle che fa questa cosa qui quindi pensate com'è importante per eliminare questo per farvi capire com'è importante per eliminare ha anche una funzione molto importante che è una funzione metabolica perché produce e sintetizza la vitamina D forse l'avevamo già detto ve lo ripeto un quarto d'ora alla luce solare meglio le ginocchia ma con parti scoperte quindi scopriamo spesso le ginocchia abbiamo sintetizziamo meglio la vitamina D che è molto importante non solo per le ossa ma anche per il nostro metabolismo e sintetizza le chiaratine quindi è molto importante anche per la nostra pelle è secretiva nel senso che abbiamo visto che abbiamo le ghiandole sebacee e le ghiandole sudorifare le ghiandole producono un secreto cioè buttano fuori qualcosa questa secrezione oltre a essere una secrezione di tipo idratante può essere anche protettiva perché perché il grasso in realtà ha una doppia sto parlando di ghiandole sebacee in questo caso ha una doppia protezione ha una doppia funzione scusate ha una funzione di tenere la pelle morbida elastica ma anche oltre a quella di buttare fuori le tossine ma anche una funzione per esempio di difenderci perché ci fa scivolare pensate quando noi abbiamo le mani sporte di olio di crema scivoliamo voi non riuscite quindi spesso e volentieri può essere anche una funzione protettiva quella di eliminare il grasso attraverso la pelle è una barriera immunitaria certo abbiamo visto quanti quanto sistema immunitario c'è nella nostra pelle a partire dalle cellule di Merck ma anche i macrofagi che ci sono nel derma quindi anche una funzione immunitaria ma soprattutto nel film lipidico che ci riveste la pelle che è quella sorta di sostanza grassa in realtà che evita di fare entrare determinate cose e tra le determinate cose non ci sono solo i virus e i batteri ma c'è anche l'acqua per esempio se noi permettessimo l'acqua di entrare nella nostra pelle quando stiamo un quarto d'ora o mezz'ora o di più in piscina o nella vasca da bagno usciremmo che saremmo dei palloni e invece l'acqua non penetra assolutamente nella nostra pelle entra solo ciò che è qualcosa su base grassa ecco perché le creme sono su base oleosa e grassa se è solo acquosa non entra esatto quindi è interessante come barriera molto molto interessante veramente benissimo vediamo un po' questo apparato tegumentario l'apparato tegumentario abbiamo detto all'inizio che la pelle fa parte dell'apparato tegumentario l'apparato tegumentario oltre che qui abbiamo ancora la cute e quant'altro se andiamo alla diapositiva successiva l'apparato tegumentario è un insieme della pelle che vedete quante cose ha la pelle le abbiamo visto prima le varie proprietà però anche epidermi il stratto sottocutaneo o ipoderma sono le tre fasce della pelle ma poi abbiamo nell'apparato tegumentario gli annessi cutanei e tra gli annessi cutanei troviamo i peli i capelli le unghie e le ghiandole che sono appunto le ghiandole sebacee sudoripari che troviamo nello stratto del derma quindi è proprio un apparato che ci riveste e ci mantiene e mantiene la nostra identità ecco perché è così importante su questa diapositiva per esempio è recuperato tutto quello che abbiamo detto fino adesso quindi abbiamo visto una cosa e invece adesso andiamo a vedere un annesso cutaneo che ci serve che è importante per parte della nostra così bellezza o comunque alcuni servono altri no alcuni servono alcuni no i primi no vogliamo eliminare i secondi invece vorremmo tenerli però in realtà sono la stessa cosa ok perché i peli e i capelli sono la stessa cosa vediamo un attimino cosa sono le differenze allora i peli fanno parte di un complesso pilosebaceo perché perché c'è un pelo ma c'è anche una ghiandola sebacea vedete che c'è questo questo pallino bianco è proprio la ghiandola sebacea su ogni pelo e quindi su ogni capello c'è una ghiandola sebacea c'è il muscolo erettore di cui parlavamo prima della della pelle d'occa no quindi è ancora importante non sono mai disposti verticalmente sulla pelle ma sono sempre obliqui ok i peli ed emergono a livello dei solchi epidemici sulla pelle sono superficiali e hanno sembrerebbe proprio un decorso spiralato e anche qua vediamo non so in natura ci sono tante cose spiralate pensate alla chiocciola come la chiocciola di mare ma pensate anche ai semi del girasole sono sempre spiralati quindi come vedete la natura si ripete sempre e la spirale non lo sappiamo che è un po' anche a livello simbolico un bel simbolo di rinascita in continuazione a degli strati maggiori quindi pensate com'è importante ok i peli sono formati da una parte esterna il fusto e però all'interno c'è la cuticola e la radice sono sempre fatti così sia i capelli che i peli i peli si hanno anche dentro dei pigmenti che ci danno il colore pensiamo ai colori dei capelli ma se uno nasce con i capelli biondi le sopracciglia saranno biondi i peli delle braccia saranno più biondi rispetto a una persona che nasce con i capelli molto molto neri quindi le sopracciglia nere e i peli della pelle li vedremo di più perché sono dalle altre parti del corpo sono neri li vedremo di più quindi anche il pigmento è molto importante si differiscono in peli del vello che sono più corti e sottili e morbidi e meno pigmentati o peli terminali o capelli quindi i nostri capelli sono i peli terminali che sono più grossi più rigidi più spessi e più pigmentati rispetto ai peli del vello quindi è la stessa cosa ma hanno delle caratteristiche leggermente diverse a differenza degli altri peli i capelli se non vengono tagliati tendono a crescere all'infinito e sono presenti solo sulla testa ok tutti gli altri peli tutte le altre zone del corpo più o meno pigmentati più o meno spessi sono però dei peli non crescono all'infinito non crescono all'infinito ok la barba si differisce da queste cose forse la barba perché la barba ci sono è vero ci sono anche delle tribù che la fanno crescere la mettono esatto esatto i pendiani però c'è un altro modo di vedere la pelle adesso state attenti perché ci sono delle cose interessanti voi sapete che a me piace sempre vedere le cose anche da altri punti di vista fino a qui abbiamo visto un aspetto chiamiamolo anatomico biologico della pelle ma la pelle si può vederla anche in un altro modo cioè si può vederla anche da un punto di vista in questo caso siamo sempre un punto di vista scientifico quindi possiamo vedere possiamo partire dai foglietti embrionali che cosa sono i foglietti embrionali allora quando si forma una nuova vita e si ci sono i due zigoti lo spermatozoo e l'ovulo che si incontrano le cellule incominciano a suddividersi fino a arrivare a una a un numero critico che è la morula dopodiché le cellule si dispongono diciamo così su tre livelli un livello più alto un livello più basso un livello centrale questi tre livelli sono chiamati foglietti embrionali o foglietti germinativi da questi tre foglietti nasceranno tutte le parti del corpo tutte qualsiasi cellula del corpo fino al momento della suddivisione di questi tre foglietti tutte le cellule vengono chiamate totipotenti nel senso che sono tutte uguali e potrebbero diventare qualsiasi cosa non è così netta la differenza dei tre foglietti embrionali cioè non è che una cellula di un ectoderma non posso diventare un endoderma però tendenzialmente sì e ogni foglietto dà origine a cose diverse quello che a noi interessa è il foglietto dell'ectoderma cioè il foglietto più esterno perché perché da questo foglietto genera il tutto il tessuto nervoso l'epidermine e i suoi derivati che è un po' quello che interessa a noi stasera quindi la nostra pelle per tornare a un discorso precedente viene generata da un foglietto che si chiama ectoderma gli altri due foglietti si chiamano endoderma quindi la parte più interna foglietto interno e l'altro mesoderma che è il foglietto che sta di mezzo ok anche l'immagine significativa sì da già un'idea no di questi tre foglietti ecco la cosa interessante da sapere è che l'ectoderma tutti gli organi che arrivano dall'ectoderma sono controllati dalla corteccia cerebrale perché è importante questo perché la corteccia cerebrale viene chiamata anche neoencefalo cioè la parte del cervello più recente di formazione e guarda caso la corteccia cerebrale rispetto a tutti gli altri animali perché tutti diciamo così tutti gli animali quindi tutto il mondo animale si forma in questo modo con i tre foglietti ok ma solamente gli uomini hanno la corteccia cerebrale e quindi la nuova formazione ecco perché si dice che l'uomo è più sviluppato ma la corteccia cerebrale è anche il nostro metodo di difesa così come non so il gheparbo è la corsa che non so il leone sono gli artigli e via dicendo il nostro apparato di difesa è la corteccia cerebrale che è anche quella delle nostre emozioni quindi vedete come è tutto legato sulla pelle abbiamo detto che la pelle fa trasparire anche qualcosa ci dice subito ci emozioniamo diventiamo rossi ci spaventiamo diventiamo e quindi vedete come oppure sentiamo qualcosa che non va si rizzano i peli vedete come è tutto collegato anche con le emozioni ecco perché era importante vedere da dove arrivava questa pelle ecco perché i foglietti embrionali i foglietti embrionali sono stati studiati soprattutto dalla medicina germanica o da hammer ok perché poi ha fatto tutto uno studio sullo sviluppo del cancro e via dicendo però ci basiamo a livello biologico quindi a livello biologico è così sappiate che non è solo l'epidermide che si forma dall'ecdoderma ma si formano anche tutte le parti dovrei dirvi più esterne ma le parti più superficiali di anche tutti gli organi per esempio dell'urettera dei nostri occhi del bacinetto renale dei bronchi perché quelle più esterne perché diciamo così che è l'epitelio di rivestimento perché sono a contatto con l'esterno quindi tutto ciò che è a contatto con l'esterno deve avere quella funzione si forma da questo e quindi ha le funzioni della pelle della protezione tutto quello che abbiamo detto quindi è molto molto importante quindi è un modo diverso nella visione psicosomatica invece che è un altro modo di vederlo alla pelle si legano tutti i nostri modi di essere o meglio tutti i nostri modi di reagire con il mondo esterno perché abbiamo detto che ci differenzia dagli altri quindi tutto ciò che ci differenzia si scrive sulla nostra pelle si manifesta si colora si dipinge sulla nostra pelle e perché la pelle dialoga col mondo esterno e quindi viene rappresentato il nostro dialogo spesso inconscio spesso inconscio e quindi ecco perché non so ci emozioniamo diventiamo rossi oppure facciamo una gaffe diventiamo bordeaux ecco che anche se noi vorremmo nasconderla la nostra pelle già ce lo sta dicendo quindi non si scappa è importante ritorniamo un attimino alle nostre funzioni iniziali le nostre funzioni iniziali che erano quelle di autoriparazione e che erano anche quelle delle sensibilità ma l'estensibilità significa anche adattamento dicevo prima facevo l'esempio della gravidanza e quindi se noi abbiamo una pelle troppo rigida avremo delle smagliature delle scherpolature più facilmente ma forse perché siamo noi un po' più rigidi degli altri ok quindi anche la pelle dimostra anche il nostro modo di essere il nostro carattere non che sia giusto o sbagliato non è questo il discorso ma è per dirvi come viene manifestato all'esterno che a una persona molto attenta lo potrebbe valutare anche così inoltre la pelle veniva utilizzata proprio pensiamo alle tribù primitive ok che usavano questi tatuaggi questo modo di essere anche non so coloravano mettevano i pigmenti ma anche i bastoncini e cose del genere ecco questi tutte queste cose che per noi adesso il tatuaggio è più diventato forse più una moda no in realtà avevano un significato simbolico che era legato a una situazione particolare a un rito particolare a volte a un rito di crescita non so pensiamo al bambino che diventa adolescente o l'adolescente che diventa uomo o donna ecco sono dei passaggi importanti e a volte il tatuaggio o il colore determinato risultava proprio sottolineava questo passaggio pensiamo per esempio pelle rossa noi siamo abituati a vedere non so ai miei tempi si vedevano i film degli indiani che si coloravano con i vari colori ecco questi colori sulla pelle a volte servivano anche per spaventare il nemico oppure per darsi coraggio perché tu sapevi che eri mascherato e quindi eri più forte quindi in realtà il nostro trucco che noi ci mettiamo al mattino soprattutto noi donne in realtà è come metterci un po' la maschera nascondiamo un po' il problema o il pensiero che abbiamo ci mettiamo un bel rossetto un bel sorriso e via andare ma ha questa funzione ha una funzione di rafforzare il nostro io quindi non è così negativo da un punto di vista anche visto se non è eccessivo certo ok e poi anche però la pelle esatto essendo un organo può essere si possono presentare delle problematiche no e anche qua tutte le problematiche che abbiamo sulla nostra pelle segnano anche un messaggio che magari noi non vogliamo leggere dicevamo le altre volte no che malattia la malattia in realtà è un segnale un linguaggio che usa il corpo per dirci dove stiamo andando per correggere il nostro tiro la nostra strada ecco che qui abbiamo detto che sulla pelle si scrive tutto e quindi ecco qua che noi lo possiamo leggere quindi sono degli esempi questi perché poi ogni esempio va calato nella storia della persona nella zona del corpo dove si manifesta e via dicendo però giusto per darvi delle idee una dermatite per esempio sono una dermatite che come si presenta si presenta con un'eruzione rossa ok quindi è un'emozione di fuoco il rosso è sempre fuoco che affiora in una superficie perché ci dice che all'interno sta avvenendo una battaglia o un conflitto o perché ci sentiamo attaccati o perché non riusciamo a dirlo questa cosa ok e quindi la persona vorrebbe per lo più manifestare queste sue sensazioni tendenzialmente possono essere legate a un impedimento di manifestare la propria sessualità la creatività da un punto di vista simbolico sessualità e creatività sono la stessa cosa perché con la sessualità io vado a creare quindi creatività la sessualità viene vista anche come una creatività materica non solo ma può essere anche legato a qualcosa della socialità ok possono essere delle paure dei nevrosi delle timidezze dei sensi di ineguatezza che bloccano questa nostra voglia di esprimerci e quindi la pelle manifesta in questo modo la seconda immagine rappresenta un acne un acne che può essere a prescindere dall'età è un eccesso di energia sessuale perché perché l'acne viene formata soprattutto da degli ormoni dagli androgeni dagli androgeni che sono tendenzialmente si sviluppano soprattutto nell'età adolescenziale perché gli ormoni impazziscono in quel periodo lì quindi ne abbiamo più spesso nell'età adolescenziale però possono risultare a qualsiasi età e risulta un eccesso di questi androgeni e quindi producono un eccesso di sebo ma perché perché spesso non si riescono a gestire delle pulsioni nuove che non sappiamo non sappiamo gestire l'adolescente non sa gestire le pulsioni ormonali che ha in quel momento non è abituato si deve abituare si deve adeguare ecco che però il corpo lo manifesta in questo modo pensiamo anche a per esempio alle donne che per esempio alcune volte alcune persone con il ciclo mestruale tutti i mesi si presentano per esempio dei problemi acneici ok quindi anche questo è legato a un problema di gestire un eccesso ormonale ok ecco perché si dice che spesso l'acnea ha un'origine ormonale l'alopecia l'ultima immagine che noi vediamo l'alopecia è la perdita di capelli la perdita di capelli a chiazze che può essere completa oppure può essere solo a chiazze era una problematica tipicamente maschile fino a qualche tempo fa adesso molte donne soffrono di alopecia e anche questo è legato al tema dell'affettività o dei legami però sempre affettivi e quindi manifesta un periodo in cui c'è stata una perdita un taglio che può essere non lo so abbiamo cambiato per motivi diversi l'ambiente a cui noi eravamo abituati per esempio viviamo a Milano e ci dobbiamo trasferire a Kimbutu non lo so piuttosto che quando c'è una separazione quando ci sono dei lutti è proprio indica una rottura ok molto importante a livello affettivo che la persona fa fatica ad accettare e che ha subito di solito di solito è perché ha subito sì poi ci sono altre patologie importanti tipo l'herp zoster ecco l'herp zoster lo vediamo nell'immagine successiva l'herp zoster è dovuta a una riattivazione di un virus queste immagini sono è la prima immagine che vediamo sulla sinistra è dovuta alla riattivazione del virus della varicella e questo virus rimane presente nel corpo su alcune persone su alcune persone no ma anche l'herp simplex che è la febbre che abbiamo sulle labbra o sul naso ok è sempre dello stesso origine è come se questa malattia ci dicesse che è un conflitto che noi abbiamo rimosso non è eliminato completamente e quindi viene fuori viene fuori quando? quando si abbassano le nostre difese immunitarie quando siamo troppo presi quando siamo troppo sotto pressione quando siamo in un periodo un pochino faticoso pensiamo anche qua a un lutto una fatica un lavoro troppo eccessivo una stanchezza eccessiva che viene trascinata ecco che l'herp zoster viene fuori no? un po' come per dirci non ti stai occupando di te ti stai occupando troppo di qualcos'altro o nell'immagine centrale vediamo una psoriasi una psoriasi è la psoriasi indica la difficoltà di comunicare alcune emozioni in entrata come per esempio quelle delle allergie anche le allergie cutanee è una problematica che indica è come se abbiamo ricevuto qualcosa quindi un'emozione che entra che non ci piace la tolgo ok ma anche in uscita la psoriasi come può essere l'acne quindi è una doppia come dire è una doppia corazza se noi guardiamo la psoriasi sembra di vedere la pelle di un coccodrillo di un serpente no? è come se la pelle si corazzasse molto è molto desquamata quindi è come se noi facciamo fatica ad accettare delle emozioni che da dentro dovrebbero uscire ma che anche da fuori dovrebbero entrare e quindi noi mettiamo questa corazza no? per evitare che passi in senso generale poi la zona del corpo in cui arriva la psoriasi ci dirà qualcosa di più ok? la cellulite la cellulite è una rinuncia alla femminilità in realtà perché la cellulite sto parlando della cellulite normale ma sto parlando quando una cellulite è tanto in eccesso è come se noi mettiamo un cuscinetto di grasso e abbiamo visto prima che il grasso ci proteggeva ok? e quindi come se io creassi una barriera per anestetizzare una zona o anche per renderla antiestetica quindi per non attirare qualcosa ok? quindi anche la cellulite in realtà è una forma di difesa del corpo come dicevo prima il grasso può essere una forma di difesa però come vedete la pelle ci dice tante cose ok? ma tante però tantissime tantissime i colori ci dicono delle cose l'odore ci dice delle cose pensate che quando si fa riflessologia plantare la riflessologia è il massaggio che si fa sotto alcuni punti del piede ma si può fare anche sulle mani sul viso la riflessologia si fa in varie parti del corpo ma quando si fa una riflessologia plantare della pianta del piede quando si lavora il piede soprattutto su una riflessologia legata a una riflessologia cinese dell'on zon su l'operatore dovrebbe annusare il piede perché in base all'odore che ha all'inizio all'odore che alla fine sa quali organo sta lavorando perché ogni organo ha il suo odore quindi pensate quanto è importante qui sono le ghiandole sudoripare del piede che lavorandolo ci buttano fuori e noi sappiamo esattamente dove dobbiamo andare a lavorare quindi vedete com'è anche importante l'odore della pelle ma pensate anche l'odore della pelle quanto ci definisce ci relaziona dicevamo prima con l'odore noi buttiamo fuori quello che mangiamo anche con il sudore ma pensate anche a volte noi incontriamo una persona e si dice a fior di pelle mi dà una sensazione mi piace o non mi piace e tu dici però non so che cosa a livello razionale mi dice mi piace o non mi piace ecco questa a volte è l'odore che non percepiamo a livello razionale perché spesso noi ci mettiamo il profumo il delorante quindi nascondiamo il nostro odore però a volte questo passa e quindi a livello proprio inconscio direi ci fa definire una persona se ci piace o non ci piace come quando entriamo in un ambiente lo troviamo bello o pesante ma pensate anche l'odore che è importantissimo per esempio per gli animali che scoprono l'estero delle femmine per poi coprirle quindi pensate l'odore noi lo copriamo lo mascheriamo perché con tutti i detergenti odoranti lo nascondiamo gli animali non lo nascondono però gli animali lo sentono anche il nostro quindi è importantissimo veramente tante cose adesso vediamo però che cosa cosa chi sono gli alleati che ha preparato la DXN per aiutare la nostra pelle allora li abbiamo diciamo questi alleati della DXN li abbiamo classificati in tre diversi modi allora i primi alleati li abbiamo pensati come bevande questo perché perché abbiamo parlato prima di tutto dell'importanza dell'idratazione e del fatto che come diceva Patrizia io posso così mettere l'acqua sulla pelle ma quest'acqua non entrerà mai nella mia pelle quindi per idratare la pelle dovremo sicuramente nutrirla in qualche modo con dei prodotti diciamo importanti e con che abbiano una sostanza diciamo grassa un veicolo che possa fare entrare nella nostra pelle determinate sostanze idratanti ma la cosa fondamentale è quella di bere tutto l'anno ovviamente però specialmente nei periodi caldi perché l'assidurazione aumenta perché ci esponiamo il sole quindi la pelle aumenta la temperatura e quindi abbiamo bisogno di sicuramente di di avere appunto più di idratazione non soltanto per la pelle del nostro corpo ma per tutti i nostri organi quindi è importantissima l'acqua sicuramente però è importante anche a volte aggiungere all'acqua determinati succhi molte volte quando si fa sport si pensa si prendono delle bevande energetiche per dare determinati sali determinate sostanze noi sappiamo che abbiamo a disposizione diciamo tutto l'anno il nostro organoderma che è il maggiore alleato della nostra pelle e con invece con i nostri con i nostri succhi abbiamo diciamo tre alternative che volevamo proporvi stasera la prima è quella appunto di questo importantissimo succo che è il cordipine perché il cordipine il cordipine innanzitutto deve essere una bevanda che deve essere diluita quindi vedete il consiglio appunto dell'uso sono 20 ml di cordipine con 180 200 ml di acqua va presa prima dopo i pasti come preferite voi non ci sono particolari problemi il cordipine da cosa è fatto da un importante fungo medicinale che è il cordiceps che il quale Patrizia insomma ne ha parlato ampliamente e del succo d'ananas fermentato fermentato perché ha gli enzimi ha soprattutto la bromelina che è un enzima molto importante per la nostra digestione Patrizia tu correggimi se sbaglio ed è importante la digestione perché molte volte quando diciamo non ho digerito magari la nostra pelle ha giusto ha delle particolari anche eruzioni dovute al fatto che magari non ho digerito bene il mio corpo non funziona come dovrebbe e quindi anche la pelle è la prima che esatto però il cordipine è molto importante soprattutto sulla nostra pelle perché migliora l'autoguarigiorna delle ferite esatto quindi importantissimo quindi anche importante per quello questo quindi questa è la prima levanda che consigliamo la seconda è il roselle il roselle sapete anche dall'immagine appunto fatto con questi calici del dell'iviscus e anche questo è un prodotto concentrato quindi è come uno sciroppo va usato anche questo con l'acqua quindi due cucchiai uno secondo della vostra del vostro gusto con quindi 30 ml di roselle con 200 ml di acqua fredda o calda e mescolare in estate ve la consiglio fredda potete sia per il roselle che per il cordipine utilizzare anche l'acqua l'acqua frizzante in questo caso ha un po' più di sempre più un soft drink insomma quindi una una bevanda una bevanda gasata che potete tranquillamente sostituire alle bevande in commercio che con roselle sicuramente avrete anche una bella dose di vitamina specialmente di vitamina C che insomma è importante anche quella per la salute della nostra pelle scusa Paola posso aggiungere una cosa il roselle aiuta anche ad abbassare la temperatura corporea ah fantastico ok quindi è importante anche per quello rifrescante anche qui esatto benissimo l'altra l'altra bevanda invece appunto è questa bevanda l'apple enzyme drink sono queste bustine praticissime ve le potete portare anche quando fate sport ovunque siate si tagliano sopra le potete succhiare diciamo così oppure anche queste aggiungerle a 200 ml di acqua a piacere potete anche metterle in queste praticissime borracce che ormai tutti sono in giro con le borracce ormai in ufficio a scuola eccetera avete sempre in giro persone anche sui mezzi pubblici che hanno nella borsa escono sempre queste borracce no? quindi potete sicuramente prepararvi la vostra borraccia con la vostra bevanda non è solo acqua è qualcosa in più e l'apple enzyme drink anche in questo caso ha tutti gli enzimi della mela fermentata importantissimi per la digestione di questo Patrizia hai qualcos'altro? la mela si ricorda che è molto ricca di sali minerali e vitamine quindi anche le vitamine sappiamo che la nostra pelle è ghiotta di vitamine e quindi così come la vita quindi il fili apparato è ghiotta di vitamine quindi è molto importante la mela da questo punto di vista e poi idrata molto ok quindi se volete idratarvi non bevete acqua da sola ma aggiungendo le bevande nella diciamo nella dose che ritenete più più adatta diciamo al vostro gusto parlando invece della pelle come diciamo apparato di eliminazione abbiamo detto che dobbiamo eliminare le nostre tossine aiutiamo l'eliminazione delle tossine con il ganoderma e con le bevande quindi per eliminarle e puliamo la nostra pelle quindi è importantissima una 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 detersione per quanto riguarda la detersione abbiamo due prodotti che uno appunto è il il body foam che è il bagno schiuma bagno doccia con il ganoderma e il il nostro ganodzi shampoo quindi il bagno doccia e lo shampoo ai ganoderma quindi aiutiamo la nostra pelle a essere sicuramente più più pulita con una detersione non aggressiva appunto per quello che abbiamo detto addizionati di ganoderma un altro importantissimo prodotto che l'abbiamo lasciato quasi in fondo perché ci sono tante cose da dire è un prodotto del quale Patrizia ci racconterà ancora tantissime fantastiche proprietà è questo olio di cocco organico quindi comunque è biologico abbiamo appunto la certificazione biologica europea dell'olio di cocco è un prodotto importantissimo non soltanto in estate tutto l'anno perché ha delle proprietà stia per la nostra pelle che per i nostri capelli ha delle proprietà importanti anche come diciamo come condimento se vogliamo sostituire i condimenti tradizionali come dolcificante tantissime proprietà e le abbiamo un po' diciamo riassunte dando qualche suggerimento un po' per l'uso e magari anche qualche ricetta intanto magari se Patrizia vuoi dare delle informazioni in generale sull'olio di cocco poi vediamo l'olio di cocco come dicevamo prima è un olio importantissimo poco diffuso da noi è un olio che si liquefa solo quando la temperatura supererà i 23 gradi sotto i 23 gradi è un olio che si condensa quindi diventa quasi un burro un burro esatto infatti in inverno è un burro e adesso è un olio esatto un pochino più solido però è un olio molto molto importante perché è un olio noi lo definiamo un olio leggero cosa significa un olio leggero quando si massaggia quando si usano gli oli vettore ne abbiamo parlato quando avevamo parlato dei cosmetici che cosa sono gli oli vettore cosa sono gli oli essenziali cosa sono le varie differenze di oli gli oli vettore sono quelli che si utilizzano tendenzialmente durante il massaggio per far penetrare nella pelle veicolare altri oli come gli oli essenziali l'olio di cocco è un olio fresco che di solito si usa in estate proprio perché in inverno sarebbe anche un po' impossibile lo si utilizza anche in inverno facendolo scaldare ok quindi quando lo si scalda silico e fa è un olio veramente eh speciale proprio per la pelle eh come diceva Paola abbiamo messo alcune ricettine molto molto importanti perché va bene sulla pelle screpolata sulla pelle secca sulla pelle disidratata penso alle gambe alle gambe che spesso diventano sembra che abbiamo la forfora quando togliamo i jeans alla sera proprio perché si seccano si squamano si squamano anche quando magari torniamo che la bronzatura se ne sta andando ecco l'olio di cocco idrata perfettamente non solamente la pelle ma anche i capelli tant'è che è usato per esempio in quelle zone tipo la Filippina e la Thailandia se voi guardate le donne di quella di quelle terre hanno dei cappelli molto lucenti molto corposi proprio perché utilizzano tantissimo l'olio di cocco tra le altre cose viene utilizzato anche nella dieta quindi come eh grasso proprio ehm sia per friggere che per cucinare che per condire perché è una sono zone un pochino più calde delle nostre noi sarebbe un po' impossibile usarlo come olio sull'insalata in inverno no perché sarebbe sempre denso e mettere un olio caldo sull'insalata non si confà però al termine per esempio qui dicevamo come usarlo sul corpo no? idratare la pelle per esempio al termine di un bagno rilassante dopo una doccia calda si può applicare qualche goccia e diluirlo ecco non ha un odore che piace a tutti ma è un olio quindi noi all'interno dell'olio possiamo crearlo con l'odore che piace più a noi utilizzando che cosa? utilizzando gli oli essenziali mi raccomando quando si acquistino gli oli essenziali usare sempre quelli per edibili quindi che possono essere anche mangiati perché? perché abbiamo visto che la pelle assorbe tutto se è un olio quindi non diamogli qualcosa di chimico quelli che troviamo sulle bancarelle 3 euro lasciamole lì adesso sono chimici sono oli chimici ok? a livello olfattivo vanno bene per cui se li bruciamo nei fornelletti li mettiamo nel termosifone dell'inverno possono andare bene perché l'odore ci può andare bene ma se li mettiamo sulla pelle devono essere esatto come mangiarli quindi anche l'olio di cocco che è biologico ed è un olio insomma naturale solo olio di cocco è importante leggere etichette possiamo scegliere per esempio qui abbiamo messo lavanda camilla o rosa per avere un effetto rilassante mentre rosmarino invece per essere più tonificante però a ognuno di noi ci sarà un profumo che piace di più e quindi gli oli essenziali sono importanti per questo e allora in questo caso avremo una profumazione anche sul corpo che ci rappresenta e magari in questo giorno mi piace la rosa e domani mi piace che ne so la menta ecco un consiglio quando mettete degli oli essenziali in un olio vettore che può essere l'olio di cocco non fatene cioè non mettetele nel barattolo ma prendete un cucchiaio un cucchiaio da minestra quello che vi serve a voi l'univalente di un cucchiaio aggiungete 4-5 gocce mischiate mi raccomando usate cucchiai e qualcosa per mischiare sempre di legno meglio non usare il metallo perché alcuni oli si ossidano col metallo li mischiate e li usate proprio come una crema profumata su di voi ecco che diventa molto per ogni occasione il profumo giusto profumo e poi insomma si è usato frequentemente fa questo specie di strato protettivo che nella pelle è sempre più più lucida è idratata esatto importantissimo anche per idratare le mani e i piedi e massaggiare appunto magari i piedi secchi e screpolati nella zona dei talloni specialmente come avevamo già visto prima ed è consigliabile appunto massaggiarli con l'olio e alla sera magari puoi mettere dei calzini e insomma per coprirli no più che altro per mantenere per mantenere l'umidità e quindi che assorba bene la pelle che non la sfreghiamo via con la lenzuola esatto con la lenzuola quindi lasciamole bene sulla sulla pelle quindi un'altra un'altra idea appunto è l'idratazione di mani e piedi specialmente in questo periodo che siamo sempre da questa parte andiamo dobbiamo sempre ovviamente gelarle esatto gelarle e con questo con questi gel che oggi o domani oggi o domani ci fanno diventare le mani secchissime poi alla fine perché tolgono tutto quello che sono i nostri il nostro film protettivo quindi è importante idrattare le mani un'altra cosa molto interessante invece è utilizzare proprio l'olio di cocco per fare uno scrub naturale parlavamo prima di fare questo questo peeling sulla pelle questo scrub per ma sia massaggiarla che per anche togliere le cellule le cellule morte sì può essere uno scrub anche dopo sole dopo sole forza abbronzatura sì sì per uniformare la pelle o anche pre-abbronzatura per prepararla esatto per avere la pelle tutta bella fresca da prepararsi al sole evitare un po' le macchie eccetera quindi il consiglio cos'è? due cucchiai di caffè e quindi non abbiamo un problema se li abbiamo due cucchiai di zucchero preferibilmente di canno di cocco tre cucchiai di olio di cocco della canella se la vogliamo la mettiamo in un barattolino mescoliamo tutto e poi applichiamo e massaggiamo questo scrub sulla nostra sulla nostra pelle lo lasciamo riposare e poi col palmo della mano con le dite insomma andiamo a massaggiarlo per rimuovere appunto le impurità la pelle la pelle morta e insomma per migliorare anche la la grana insomma della della pelle il caffè e lo zucchero in realtà servono come effetto abrasivo sulla pelle ecco io vi consiglierei tra l'altro magari se volete di utilizzare anche il 3 in 1 perché così avete sia il caffè che lo zucchero perché quindi anche come consistenza la bustina di 3 in 1 può andare bene come quantità e anche come consistenza per fare questo tipo di massaggio quindi questo consiglio e anche questo questo scrub naturale altra cosa abbiamo detto parliamo anche di peli quindi sia arba che peli importanti per la rasatura cioè per la rasatura può essere diciamo un'alternativa alla scuma da barba un'alternativa naturale alla scuma da barba o alla crema da barba che allo stesso tempo idrata e nutre la pelle e invece per quanto riguarda la la rasatura con il rasoio per le donne o anche per la per la ceretta perché aiuta poi alla rimozione della della cera sapete che non bisogna lavarla ma bisogna appunto sciogliere il residuo di cera con con un con un olio e quindi va benissimo olio di cocco ma perché poi va a sicuramente a idratare la pelle e a prevenire e a prevenire le varie rossori idratazioni che possiamo avere con la ceretta le smagliature parlavamo prima di elasticità della pelle Patrizia giusto esatto c'è chi c'era più elastica chi c'era meno elastica per chi c'era meno elastica ahimè è sicuramente meglio utilizzare un olio e massaggiarlo sui fianchi sulla sulla pancia sul seno mi viene mi viene in mente anche Patrizia penso che che possa andare bene anche per la gravidanza come prevenzione alla alla smagliatura ma una cosa interessante è che l'olio di cocco in questo caso utilizzato come proprio crema lo possiamo usare anche quando l'inverno è un pochino più solido perché lo usiamo come se fosse una crema idratante esatto una cosa che aggiungo sui piedi e sulle mani si possono fare degli scrub per i piedi piuttosto che fare la ricerca che abbiamo visto mettete del sale del sale ok del sale e fate lo scrub per i piedi in questo caso il piede risulta anche più leggero fantastico altri consigli per diciamo bruciature lievi o delle abrasioni lievi non di taglio ovviamente possiamo applicare l'olio di cocco appunto sulla sulla zona interessata specialmente magari non so per le cadute dei bambini che mi sembrano quelle più un po' più evidenti sì e per mantenere elastica la pelle non va messo su tagli aperti sull'abrasione aperte deve essere messo sulla crosta per la crosta e appunto accelerano poi i processi curativi e anche magari invece in caso di cicatrice quindi quando la pelle ormai si sta cicatrizzando aiuta a mantenere la cicatrice più elastica e a schiarirla non so non fare la cicatrice non lasciare la cicatrice rossa poi anche come deodorante naturale o dopo sole lenitivo deodorante naturale oppure ci aggiungiamo come ha detto Patrizia un olio essenziale avremo una profumazione un po' un po' diversa quello che ci piace o anche come dopo sole lenitivo macchie sulla pelle e sulle cicatrici una per questo la ricetta potrebbe essere quella di due parti di olio di cocco una parte di bicarbonato di sodio oppure uno a uno se invece vogliamo una miscela più forte e questo può aiutarci nel caso di macchie sulla pelle appunto o di cicatrici e sulle macchie della pelle vi consiglio di farla all'inverno non quando vi esponete al sole perché altrimenti peggioriamo la situazione l'olio di cocco anche sui capelli perché li può ritratare serve anche per quanto riguarda diciamo per chi fa delle colorazioni poi aggiungendolo al colorante per sciogliere i nodi per sconfiggere la forfora massaggiando la cute per proteggere dei raggi solari quindi prima dell'esposizione solare non solo dei raggi solari ma anche diciamo dal sale del mare lascia il sedine che comunque gradisce molto i capelli se io vado a fare il bagno magari prima ho spalmato l'olio di cocco sui cappelli fa che come da barriera mi rende come dire un po' impermeabili al sale e poi anche per aumentare la ricrescita quindi sempre con un bel massaggio gli ultimi due prodotti diciamo che abbiamo lasciato per la conclusione di questa carrellata sono appunto due prodotti della linea Miracle uno è naturalmente l'essenza solare protezione 50 e l'altro prodotto invece è l'emulsione vital extra perché tra i prodotti diciamo della linea Miracle per la cura della pelle per la cosmesi questo è quello che è adatto anche al corpo e quindi come consistenza e come diciamo protezione quindi è sicuramente un'emulsione molto fluida e trattante che va bene anche per il corpo dopo il bagno e penso che abbiamo detto tutto per questa sera io vi ringrazio per la partecipazione ringrazio Patrizia perché è stata preziosissima anche oggi con tantissimi aiuti e informazioni interessanti le persone che ci seguono diventano sempre più esperte perché ormai abbiamo toccato diversi aspetti altri ne faremo ancora nei prossimi webinar io vi saluto e lascio la parola a Delle Rosa grazie Patrizia grazie Paola perché questa sera è stato ancora più interessante come argomento perché in realtà partendo da la pelle dai capelli sono venuti fuori tantissimi prodotti che possono esserci utili in maniera molto diversa tra loro però davvero con delle caratteristiche fondamentali credo che dell'olio di cocco a questo punto partendo da domani possiamo farne a meno esatto non solo per le vacanze ma proprio che ci accompagnerà per tutta l'estate perché a questo punto credo che sia davvero indispensabile quindi abbiamo scoperto tantissime caratteristiche per un uso a questo punto quotidiano semmai in Italia siamo meno predisposti di utilizzarlo nella cucina come invece capita in molti altri paesi dove lo usano come dolcificante in alcune ricette però sicuramente per la pelle e per i capelli credo che sia un prodotto davvero davvero valido e poi ci possiamo sbizzarire anche con dei cocktail a base dei nostri succhi naturali che sono dei succhi che fanno bene anche la ovviamente la salute però volevo ricordare che all'inizio quando Patrizia ha parlato un po' delle varie problematiche che si possono presentare sulla pelle forse in quel caso possiamo avvalerci del nostro alleato numero uno che è il ganoderma che sicuramente può aiutare a prevenire tanti di quei problemi dei quali ha parlato Patrizia perché essendo un po' un disintossicante un riequilibrante può essere credo di aiuto per i vari problemi dei quali hai parlato Patrizia che dici? Eh sì essendo un immunomodulante il ganoderma diciamo che è l'ingrediente principe su ogni ricetta sempre perché incominciamo a nutrirlo dall'interno quindi quando incominciamo a vedere dei primi segni strani o del primi appare qualcosa sulla nostra pelle che non non ci sconfì in ferra molto incominciamo anche a curarla dall'interno perché abbiamo visto che i nutrimenti arrivano dall'interno non dall'esterno esattamente quindi proprio per questo secondo me può essere come diciamo sempre partire utile partire dalla prevenzione e nel caso in cui fosse necessaria la cura poi sappiamo che abbiamo anche degli altri rimedi però se noi rendiamo il nostro organismo più sano che riesce a reggere meglio e ad aumentare le nostre difese immunitarie quindi tenere alto tenere alta la nostra immunità in genere credo che sia molto meglio e ci può essere ancora più di aiuto però ovviamente come abbiamo visto ci sono tantissime soluzioni che la DXN può offrire per la nostra pelle i nostri capelli quindi anche in questo caso abbiamo tantissime tantissimi suggerimenti da dare ai nostri amici e alle persone che conosciamo perché abbiamo tante carte che possiamo giocarci sia per la pelle che per i capelli allora ringrazio Paola e Patrizia per tutta questa lunga spiegazione nella quale ci avete davvero sfoderato tutte le armi a disposizione ma davvero ci sono proprio state tante cose interessanti che avete detto e ricordo a tutti i amici di seguirci sui social nei prossimi giorni perché ci sono tante novità ci sono tanti appuntamenti tante cose che man mano nei prossimi giorni verranno svelate quindi seguiteci sempre sui nostri canali ovviamente anche su youtube la presentazione questa sera e poi il prossimo appuntamento invece con Paola e Patrizia sul focus del prodotto sarà sicuramente sempre il primo lunedì di luglio di luglio quindi do la buonanotte a tutti ringrazio di nuovo Patrizia e Paola per la presentazione e a presto grazie mille buona serata grazie buona serata ciao ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti